Tavolini ancora polemiche e roventi. A smorzare le proteste non basta la scelta dell'amministrazione comunale di Lecco di concedere a ristoranti e bar del centro una moratoria sulle nuove regole di occupazione del suolo pubblico da Pasqua al primo maggio. Una scelta presa a conseguenza della sospensiva che il Tar ha concesso a un ristorante del centro, il Mammaioa, che aveva ricorso contro il diniego dell'amministrazione a occupare uno spazio esterno in piazza Cermenati utilizzato dallo stesso esercizio da più di un decennio, concedendolo a un altro bar. L'amministrazione da che parte sta? Si chiede in una lettera aperta al titolare. Soprattutto a quale interesse pubblico sta tutelando nel continuare a sostenere che solo il ristorante Mammaioa debba cessare di occupare lo spazio pubblico da sempre occupato per raddoppiare quello di un altro esercente a parità di canone di occupazione percepito. Questa amministrazione, con cui della nota dovrebbe spiegare agli esercenti e la città perché ha ignorato del tutto la proroga concessa dal legislatore nazionale, intimando lo sgombero coattivo al ristorante Mammaioa e costringendolo a ricorrere al TAR. Un pronunciamento, quest'ultimo, contro il quale l'assessore all'attrattività Giovanni Cattaneo ha annunciato di voler ricorrere al Consiglio di Stato per una questione di equità. Decisione criticata da Corrado Valsecchi, consigliere di appello per l'ECO. Per l'amor del cielo dichiara ci sta a perdere una partita, ma Cattaneo annuncia già l'avvio di una procedura presso il Consiglio di Stato. Dovesse perderla, la cosa comincia a diventare pesante anche per le casse del comune che deve pagare gli avvocati propri e quelli della controparte, come è avvenuto al TAR regionale. Critiche poi anche sulla proroga di 20 giorni dopo la sentenza, conclude il consigliere di appello per l'ECO. Bastava congelare per questa stagione il regolamento. Ma l'assessore Cattaneo ha una vaga idea di cosa vuol dire fare impresa?